Siamo qui a presentare una rassegna che avrà luogo nel prossimo periodo autunnale a Pescara, una rassegna interamente dedicata al jazz, alle nuove leve della musica jazz, musicisti che stanno studiando ancora nei nostri conservatori, che però già hanno brillantemente avuto partecipazioni in festival importanti e ovviamente ci saranno i veterani della nostra città, nomi importanti, che daranno sicuramente lustro e prestigio a questa iniziativa ideata da Giuseppe Simoncini. Vado subito a riferirvi su quelli che saranno i protagonisti, il presentatore sarà Carmine Titonato, ci sarà l'attrice Maniangela Dal Benzio e poi diversi gruppi musicali, quello capeggiato dal contrabassista Paolo Trivellone, quello appunto di Giuseppe Continenza, gruppo di Giovanissimi, poi ci sarò anche io, Maurizio Di Fuglio insieme a Giuseppe Continenza e il fratello di Giuseppe Continenza con il suo trio, Gianfranco Continenza, il gruppo di Piero delle Monache, Roberto Bagliaroli con la sua fisarmonica, la Buda Band capeggiata da Nicola Di Nardo. Bene, questo sarà in sintesi, saranno i protagonisti di questa rassegna, ma voglio menzionare anche altri che parteciperanno a vario titolo alla manifestazione, ci sarà il fotografo Francesco De Dominicis, Anna Di Donato, si con Gini sarà anche il cameraman e poi l'ufficio stampa sarà curato da Anna Di Donato. Quindi signori prepariamoci perché ci aspetta un autunno pieno di bella musica.